Ciao amici di MTB Mag, bentornati anche questa settimana con un nuovo Video Tech Corner. Quest'oggi parliamo di gomme ed in particolare ci occupiamo dei 7 errori più comuni che potremmo fare nel cambiare un copertone. Prima di entrare in vivo l'argomento, come sempre, voglio ricordarvi che se volete sostenere il canale YouTube di MTB Mag potete farlo come? Con un piccolo abbonamento, neanche 2 euro al mese, per dare il vostro contributo alla realizzazione di questi video. Qui da noi in negozio ne vediamo di tutti i tipi, ma l'errore più comune è sicuramente quello di un battistrada montato al contrario. Le gomme sono direzionali ed in particolare la parte rampata va sempre rivolta, guardando l'alto del copertone, in avanti. In questo modo che cosa succede? Aiuta a favorire il rotolamento. Se noi montiamo una gomma al contrario, salvo che sia una gomma specifica che si può montare nei due versi, che cosa succede? Ci troviamo una gomma che funziona al contrario di quello che dovrebbe funzionare, ovvero con la parte rampata che va a fare grip in frenata, quindi riduce il grip in frenata, e la parte spigolosa che è quella che va a impattare sul terreno prima della parte rampata e quindi con una scorrivolenza più scadente. Guardiamo sempre sul fianco del copertone il verso di rotazione, oppure se montiamo un maxis, ricordiamoci che la scritta questa qua con il nome della gomma va sempre dal lato della trasmissione. Un altro errore molto comune è quello di copertoni che girano storti. Le case sono due, solitamente. Il primo, che si è sfondato il copertone forzando nel montaggio con dei cacciagomme, motivo per cui vi consiglio di montarli sempre a mano. Il secondo è che il copertone non è correttamente tallonato sul cerchio. Sul lato del nostro copertone c'è un talloncino, un bordino di gomma. Quando abbiamo montato il copertone dobbiamo verificare che il talloncino di gomma sia fuoriuscito per tutta la circonferenza della nostra ruota, sia sul lato che sull'altro. Per facilitare la salita del copertone sul nostro cerchio, il consiglio che vi ho dato già in vecchi video è quello di una soluzione molto semplice. Prendiamo acqua e sapone dei piatti, lo mettiamo in un recipiente e con un pennellino spennelliamo il fianco del nostro copertone. Adesso questo è montato ma spennelliamo tutto il lato del copertone prima di farlo tallonare. Una volta montato il copertone lo tiriamo su col compressore e con la pompetta ad una pressione di 3-3,5, il massimo consentito sulla spalla e verifichiamo che il copertone sia giri dritto, sia tallonato soprattutto, sia tallonato quindi il cerchietto, sia tutto fuoriuscito dal tallone del cerchio e sia omogeneamente distribuito, quindi non ci siano delle zone in cui rientra. Se ci sono delle zone in cui rientra, tipo immaginiamo qua, che cosa facciamo? Con le mani forziamo il tallonamento del copertone. Se abbiamo applicato la nostra soluzione di acqua e sapone, questa operazione è semplicissima, solitamente al 99% con un copertone nuovo basta la pressione di gonfiaggio senza bisogno di far forza con le mani. Terzo errore molto comune, quello di gonfiare un copertone oltre alla pressione massica consentita nel tentativo di farlo tallonare e poi questo esplode con un botto tremendo nel risultato di questo tipo. No, scherzi a parte, questa ruota ha subito ben altro, non è colpa di un copertone che tallona, però sicuramente un copertone che esplode in faccia, soprattutto se più di lattice, non è assolutamente piacevole per nessuno. Anche col tubeless, infatti, non è necessario salire a pressioni folle, se il nostro copertone... Quindi, se il copertone fatica a tallonare, non esagerate con la pressione, se usate un compressore, attenzione, quello arriva anche a 8 e il cerchio o la gomma non tengono una pressione così alta, non andiamo mai e poi mai oltre i 3,5 o 4 e se la gomma fatica a tallonare, bene, non è solo un discorso di forza bruta, bisogna utilizzare due soluzioni, l'acqua e il sapone e massaggiarla bene con le mani. Con questo sistema la gomma sale facilmente senza bisogno di andare su pressioni esageratamente alte che possono farla scoppiare. Un quinto errore da evitare è quello di sbagliare la larghezza del copertone in relazione alla larghezza del cerchio. Allora, non ci sono regole precise, su una data larghezza del canale interno del cerchio si possono montare certe misure di copertoni, non si può quindi andare a montare un copertone troppo largo su un cerchio troppo stretto e viceversa, non si può neanche montare un copertone troppo stretto su un cerchio troppo largo. Che cosa succede? Se noi montiamo un copertone troppo largo su un cerchio troppo stretto avremo una forma a pera, il nostro copertone fletterà in curva e non avrà una buona tenuta di spigolo e rischieremo anche di stallonare. Se viceversa montiamo un copertone troppo stretto su un canale eccessivamente largo, che cosa succede? Il nostro copertone sarà spiattellato, i fianchi saranno dritti e la superficie di rotolamento piatta. Il battisterà da piatto non va bene perché senza una certa rotondità non riusciamo a piegare la bici in curva, quindi ci troviamo con un copertone che attacca di spigolo e scappa subito via. Quindi è importante verificare la misura del canale interno del cerchio e poi, facendo riferimento alle prescrizioni del produttore, scegliere una gomma di larghezza adeguata. Come si misura la larghezza di un canale interno del cerchio? Beh, cerchio nudo, si prende uno strumento di misurazione, in questo caso un metro, anche se un calibro è più indicato, ma non lo trovavo, e si misura la larghezza del canale interno, in questo caso 30. Se abbiamo il copertone montato e non possiamo quindi avere il cerchio nudo, bene, solitamente se andiamo a cercare sull'adesivo, sulle scritte del cerchio, troviamo alcune indicazioni utili. In questo caso troviamo la misura ETRTO, che ci dice che questo cerchio è 622x30. 622 indica che questa è una ruota da 29 pollici, 30 indica la larghezza interna del canale. Se abbiamo dei dubbi o non troviamo questa indicazione, un altro sistema molto pratico è quello di vedere il modello del cerchio e cercandolo sul sito del produttore, solitamente troviamo facilmente le specifiche tecniche, tra cui la larghezza e magari anche le sezioni di copertone consigliate. Un altro incidente molto comune è quello di non mettere il lattice all'interno del copertone. I copertoni tubeless devono avere il liquido antiforatura, comunemente chiamato lattice. Se non lo mettiamo la gomma si sgonfierà in tempi molto rapidi e non avremo soprattutto alcuna protezione dalle forature. Solitamente è una dimenticanza, ma ricordiamoci sempre di mettere il liquido antiforatura nel copertone prima di uscire in bici. Un altro errore veramente comune, che vedo tanto, è quello di mettere un copertone sbagliato all'anteriore o posteriore. Facciamo una premessa, ci sono copertoni da anteriore e da posteriore specifici e ci sono copertoni che possono andare bene sia davanti che dietro. In linea di principio, però, copertone anteriore e posteriore sono differenziati, perché il posteriore deve avere un buon grip in frenata e una buona trazione, quindi mediamente dei tasselli a taglio. L'anteriore invece deve avere tenuta in curva, quindi avrà mediamente un disegno più a V o scanalato. Utilizzare i copertoni invertiti, quindi un disegno più a canali, dietro e una taglia davanti, ad esempio, non va bene, perché i due copertoni hanno esigenze differenti. Davanti dobbiamo avere grip in curva e al limite una gomma che, se freniamo, ci dia comunque un buon controllo. Al posteriore dobbiamo avere trazione in frenata e in pedalata, quindi un comportamento diverso. Invertire anteriore e posteriore, se non fatto con criterio, perché magari si monta una gomma più scorrevole dietro, che magari può essere utilizzata per discipline più tranquille all'anteriore, non è una buona idea. Quindi, gomma davanti, anteriore, gomma posteriore, posteriore. Settimo ed ultimo è allora, quello di montare la gomma sbagliata per le discipline che stiamo praticando. Ogni disciplina ha le sue gomme. Non possiamo andare a mettere un Minion DHF da due e mezzo su una bici da fronte da cross country, perché magari ci sta, però snaturiamo la bici. Non è una bici che nasce per aver bisogno di una gomma così aggressiva e andremo, sì, ad avere più grip, però a compromettere quella che poi è il comportamento più interessante del bici da cross country, ovvero la scorrevolezza e la pedalabilità. Non è solo un discorso di sezioni e di dimensioni della gomma del tassello, ma anche di spalle. Andare a mettere su bici leggeri e gomme troppo pesanti va a compromettere l'efficacia della pedalata, ma in maniera del tutto analoga, andare a montare gomme troppo leggeri su bici più graviti, tipo all-mountain, enduro, DH, va a compromettere poi l'affidabilità e quindi il rischio di bucare o di avere delle gomme che devono essere gonfiate a pressioni folli per non bucare, quindi che poi si comportano male. Quindi, ad ogni disciplina, la sua gomma, la sua tipologia di spalla, il suo disegno. Possiamo giocare un pochettino in base ai nostri gusti personali, ma andare a stravolgere una bici con le gomme sbagliate significa commettere un errore che poi non permette di sfruttare appieno le potenzialità della nostra bici. Bene, quindi, cos'altro aggiungere? Perdonerete che oggi sono un po' senza voce, i condizionatori non aiutano di questo periodo. Tra l'altro vi comunico che a partire da settembre Bike Club si sposterà nella nuova sede, via Venezia 11 a Beinasco, ma ci troverete dal primo di settembre. E niente, come sempre, sono sempre a vostra disposizione qui in negozio, mentre, per un altro video, vi do appuntamento a settimana prossima e vi ricordo che se volete continuare la visione, qui e qui, trovate altri video correlati. Ciao a tutti, appuntamento a settimana prossima.